È la Val d'Aosta la location scelta per i primi Chuck di The Avengers Age of Ultron, sequel del colossal hollywoodiano dove i supereroi dei fumetti Marvel sfideranno i nemici in appassionanti scontri, esaltati dai più moderni effetti speciali. Nella fortezza di Bard, complesso che domina sulla bassa valle, scene di battaglia ed effetti speciali attirano l'attenzione dei valdostani e dei turisti, ma il set è blindatissimo. Il colossal è ambientato nella Russia degli anni 40 e scritte in cirillico tappezzano i luoghi destinati alle riprese. Tra le star già giunte in Val d'Aosta ci sono Jeremy Renner che interpreta Cleen Barton, Occhio di Falco, Elisabeth Olsen, la cattiva Scarlet Witch e Aaron Taylor-Johnson, Quicksilver. C'è ancora qualche possibilità che arrivi Scarlet Johansson, la magliante vedova nera, ma per il momento è solo una speranza dei fan.